buongiorno benvenuti tutti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 siete sul canale 17 di fano tv e questa è occhio e giornale il commento alla stampa del giorno i due quotidiani sono ormai li conoscete il carlino il corriere adriatico le edizioni pesero urbino ma ci sono i santi prima e poi il tempo allora andiamo sul calendario santi simone e giuda l'alba alle 6 43 il tramonto alle 17 e 06 andiamo su tre bimeteo questa mattina tre bimeteo per la regione marche indica cielo sereno poco nuvoloso al mattino così come nel corso del pomeriggio con velature sparse sereno invece durante la notte per la giornata di domani andiamo a vedere subito la giornata di domani così come quella di dopo domani sarà comunque relativamente serena poco nuvolosa così come nei prossimi giorni insomma c'è poco da dire sul tempo allora intanto invece c'è molto da raccontare sul fronte covid 19 ma soprattutto economico più che sanitario sanitario sapete benissimo insomma la situazione qual è i contagi aumentano ma questo è ormai un dato di fatto dovremmo tener conto di questo momento anche nei prossimi giorni gli effetti di questo mini lockdown li vedremo soltanto tra qualche settimana allora la fotonotizia del carlino di pesaro ma io aprirò ancora sono parole virgolettate una frase detta ripetuta più volte da umberto carriera ristoratore che travolge i divieti e dice nel fine settimana venite a cena da me lui ha sei ristoranti uno gliel'hanno chiuso con tanto di multa e ne ha sei quindi uno per ogni giorno quasi se vuole insomma questa è un po la situazione poi aiutateci a oppure la città muore locali piscine palestre oggi in piazza questa mattina la manifestazione delle attività colpite dal dpcm categorie mobilitate e questa mattina a pesaro in piazza del popolo 11 e 30 l'appuntamento per tutti è appunto nella piazza principale della città di peso anche noi ci saremo vi trasmetteremo per quanto possibile le immagini in diretta cercheremo di intervistare fare interviste cercare di capire e di dare un po voce spazio a queste persone imprenditori piccoli grandi imprenditori insomma in questo momento si trovano in difficoltà l'isippo in italia l'isippo la statua dello scultore greco lo conserveremo bene roma non ha non abbia dubbi parla il sostituto silvia cecchi e poi sempre dalla prima pagina del resto del carlino drive point dedicati solo alla scuola sempre sulla lotta al contagio da lunedì sessioni pomeridiane riservate all'istruzione nei punti di pesaro fanno urbino e poi l'anti influenza antinfluenzale che viene somministrata all'oratorio garantisce il don il parroco della parrocchia di loreto di pesaro ha reso disponibile gli spazi vicino alla chiesa profilassi per 200 persone adesso il corriere adriatico città sia unita rabbia da gestire il sindaco il sindaco di pesaro ricci ha incontrato le associazioni che chiedono aiuti per i settori in difficoltà oggi sit in di cof commercio e sul ristorante chiuso dopo la scena per 90 ricci ribadisce provocazione grave rischia altre sanzioni pesanti intanto dubbi sulla vittoria della mancinelli lancia l'associazione nazionale comuni italiani nel caos ci sono 14 schede in più qui l'intervista sul corriere anche a padre ragnero canta la messa che sarà candid che sarà cardinale i miei 40 anni da predicatore sono contento mi sembra più un riconoscimento della mia parola che ho portato nella chiesa che della mia persona dice ragnero sono 40 anni che faccio il predicatore della casa pontificia così padre canta la messa originario di colli del tronto nelle marche che papa bergoglio nominerà cardinale nel prossimo concistorum a novembre botte e violenze poi il coraggio di denunciare l'ex succede a pesero progetto armadio anche chi maltratta deve essere aiutato e poi in festa per le lauree ma con i poliziotti a presidiare i gruppi questo succede urbino poi casalbergo per anziani nell'ex palazzina dell'enel dopo un iter lungo sei anni ha provato il piano mentre sul prg si va alla variante per il cambio di destinazione stiamo parlando del via libera del consiglio comunale di pesero la variante della prg al prg per la palazzina ex enel lo storico stabile in via in mattoncini in via d'azeglio nel centro tra via buozzi via d'azeglio e via giusti che dopo decenni si prepara a cambiare la propria destinazione d'uso le pagine interne il virus torna nelle rsa questo è un problema anche qui voglio dire qualcuno evidentemente ha dormito il virus che torna nelle rsa poteva succedere la prima volta non la seconda vabbè comunque aumentano i positivi ieri altre tre vittime contagi nelle strutture di fabriano macerata aumentano i ricoveri sono 28 i pazienti in terapia intensiva ancora 133 infetti in un giorno in salita la percentuale di persone contagiate rispetto tamponi più 24 per cento 8 i pazienti sistemati nel covid hospital invece di civita nuova marche questa è la pagina invece interessante dell'usca come funzionano queste usca queste unità che si muovono la prima linea del fronte quelle che vanno nelle case teoricamente dovrebbero andare nelle case delle persone che non necessitano del ricovero ospedaliero ma che vanno comunque monitorate vanno tenute sotto controllo intanto allora secondo una linea di principio dovrebbero essere circa una ogni 50 mila abitanti nelle marche attualmente sono 28 gli equipaggi distribuiti omogeneamente tra i 13 distretti sanitari ma stando ai parametri della normativa che le regolamenta queste usca all'appello ne mancano ancora cinque per questa ragione il nuovo assessore alla sanità salta martini dice abbiamo dato direttive per garantire anche le cinque equip in più che però ancora non ci sono c'è però difficoltà nel reperire medici che evidentemente non hanno intenzione di farne parte insomma per garantire ai nosocomi che ai nosocomi arrivino soltanto i casi che davvero necessitano di ospedalizzazione si sta lavorando anche per dotare le equip delle usca di macchine per l'ecografia polmonare a domicilio e adesso arriva l'altra notizia importante dice sempre salta martini ne abbiamo ordinati insomma ne abbiamo comprati già 25 stanno per arrivare quindi queste macchine per l'ecografia polmonare a domicilio ne arriveranno 25 verranno date in dotazione queste usca per queste questi controlli a domicilio la rete territoriale prevede che le squadre vengano attivate dai medici di medicina generale quindi il vostro medico oppure dai pediatra di libera scelta o dalla guardia medica le stesse unità devono effettuare anche tamponi domiciliari dei pazienti sintomatici quindi coloro che hanno sintomi da covid ogni task force è operativa 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è composta da almeno due operatori che possono essere due medici oppure un medico un infermiere coordinato da un medico di medicina generale senior convenzionato da più di 10 anni poi tutta una serie di regole regolette che vabbè fanno parte del del gioco ok questa per quanto riguarda usca mentre sui tamponi che vengono fatti al drive in quindi quelle in macchina il corriere questa mattina fa una panoramica di dove sono questi drive point sparsi nelle marche tamponi arriva pure l'esercito nelle marche inviati 15 militari tra medici ed infermieri il sottosegretario Morani dice aiuteranno nel tracciamento tracciamento che come dicevamo nei giorni scorsi diventa sempre più difficile con l'aumentare dei casi positivi perché immaginate voi ogni giorno 200 300 400 anche 500 nuovi positivi fate il conto per 10 per esempio se dobbiamo ritornare indietro e tracciare di questi 500 nuovi positivi 10 persone per ogni positivo sono 500 per 10 sono numeri che non 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 si possono e quindi il tracciamento sostanza salta ma i drive point invece questi drive point nelle marche soltanto in provincia di pesero per esempio sono a urbino nella zona del sasso nella zona sasso a fano la zona del colma di rusciano a pesero in via dei cacciatori scuola ogni settimana titolo il carlino 500 in quarantena sono i numeri dell'asul il dottor carlotti ci dice attendiamo rinforzi intanto la lunedì sessioni pomeridiane nei drive point e uso di tamponi rapidi mentre un'altra notizia interessante qui piccola di spalla sul carlino di oggi è sul plasma iperimmune ci sono 300 poco più di 350 di queste sacche di plasma iperimmune disponibili al momento nelle marche una quantità sufficiente a far ripartire la sperimentazione sulle persone affette dal coronavirus attualmente all'ospedale marche nord qui da pesero ce ne sono 240 a disposizione in grado di curare circa 80 pazienti ma con i nuovi ricoveri e le guarigioni consentiranno di raccogliere altri quantitativi la questione del ristoratore che così insomma da qualcuno sannato da altri criticato ha sfidato la legge ho sei ristoranti dice lui ne aprirò uno al giorno la sfida bis di carriera multato e denunciato ieri primo verbale 400 euro ma la municipale ha consegnato un dossier pesante alla prefettura le sanzioni forse aumentano intanto la digos lo ha segnalato alla procura per il reato di inosservanza dell'autorità non ha fatto entrare gli agenti nel suo locale le tv locali nazionali se lo stanno contendendo io ci ho messo la faccia disobbedienza civile per sollecitare le istituzioni o finiamo con i capi al collo ma lui ha messo in pericolo dice invece il sindaco matteo ricci la salute di tanti l'attacco del sindaco che dice e definisce quella cena con 90 persone una cena scellerata ho chiesto al prefetto la massima durezza fatti del genere non devono ricapitare serve rispetto per tutti gli altri che non hanno organizzato simili pagliacciate momento delicato invece titola il corriere adriatico su questa storia la città sia unita la rabbia va gestita il sindaco ricci incontra le associazioni di categorie e gestori locali dei locali il ristorante aperto è stata una grave provocazione e ci saranno conseguenze pesanti mantenere un equilibrio tra emergenze economiche e quella socio sanitaria questa è ovviamente la parola d'ordine intanto sulla pagina del corriere interna c'è anche la storia di questo ricercatore giacomo rossi docente di patologia alla scuola di bioscienze e medicina veterinaria all'università di camerino che dice la mia ricerca bloccata in italia ma va invece avanti in india e canada professor rossi è quel farmaco che rallenta il virus all'oratorio oratorio di pesoli vaccini benedetti dal don il don in questione è don giuseppe fabbrini che ha messo a disposizione gli spazi normalmente utilizzati per il catechismo garantendo così la massima sicurezza i primi 200 pazienti che tra il mattino e il pomeriggio si sono seduti all'esterno della palazzina color ocra in attesa del proprio turno e qui vedete gli spazi ci sono e le persone si sono fatte iniettare la dose di vaccino anti influenzale attenzione facciamo confusione stiamo parlando di vaccino anti influenzare e non di vaccino anti covid che ancora non esiste e non c'è da nessuna parte ora l'altra pagina invece del corriere sulla valmetauro c'è il resoconto del visita che la consigliera regionale marta ruggeri del momento 5 stelle insieme al sindaco di fossombrone gabriele bonci ha effettuato all'ospedale di fossombrone sull'ospice ora torna l'incubo della riconversione covid quest'ondata era prevista dicono e fossombrone non si tocca assunzioni marche nord in ritardo il personale migra verso la romagna contratti a tempo indeterminato contro quelli a tempo dell'azienda pesarese ultimatum del sindacato cgl alla direzione per la per le stabilizzazioni manca ancora la delibera mentre il dottore agostini interviene sul giornale parlando di sanità e trasporti con buoni servizi per evitare le misure più restrittive il rientro della stato dell'isippo noi la chiamiamo ancora così la stato dell'isippo in realtà è l'atleta vittorioso lo scultore greco è l'isippo ma comunque vabbè ci siamo capiti il ministero ci sostenga il sostituto procuratore silvia cecchi parla dopo le regole della sottosegretaria che in merito alla restituzione aveva sollevato qualche perplessità come dire noi dopo non siamo sempre in grado di mantenerle oppure di valorizzarle quant'altro ecco questa mattina interviene silvia cecchi appunto dicendo che non è esattamente così l'italia in effetti insomma sa perfettamente anche perché ne ha tante di di opere insomma quindi sa come valorizzarle sa come mantenerle eccetera eccetera mentre c'è un lutto di cui parla il carlino di fano questa mattina un lutto si è spenta a milano gisella de sena aveva da poco lasciato la sua città aveva 64 anni una morte improvvisa la sua che ha lasciato tutti i sgomenti sia fanno che pesero a minare la sua salute una brutta caduta avvenuta quest'estate e dalla quale non si è più ripresa una situazione che poi è precipitata negli ultimi giorni gisella de sena è stata titolare di un'agenzia a milano ma poi è diventata anche per il suo profondo legame con fano armatrice quindi andando a rinsanguare attraverso l'acquisto di due grandi motopesca d'altura la flotta peschereccia cittadina il corriere adriatico lavoratori delle vendite di biglietti siamo i fantasmi dello spettacolo il grido d'allarme di live ticket uno dei maggiori siti di prevendita dell'azienda fanese ghostec che il titolare stefano c'è cherchi dice sta entrando in crisi un intero sistema tradizionale ma anche online intanto le scuole paritari cattoliche hanno ricevuto dal comune di fano 24 mila euro contributi alle maestre pievenerini e all'asilo di san marco primo soccorso questione di cultura mare dentro in scuole corsi e imprese salta bimbi sicuri per le prime le ultime misure anticontagio e l'attività dell'associazione si rimodula mentre sotto blitz dei ladri in via cavur spariscono tutti i soldi in cassa il colpo ai danni di una giada bottino di 500 euro e gravi danni al negozio il negozio una già di negozio che vedete in questa fotografia è quello di via cavur svaliggiato appunto dai ladri con le mascherine il virus va in fuori gioco è un'iniziativa del neo assessore allo sport barbara brunori per sensibilizzare i più giovani ai comportamenti corretti e in questa iniziativa sono stati coinvolti come vedete nella fotografia i giocatori dell'alma la fotografia è un frame del video che è stato girato dai giocatori per promuovere l'uso delle mascherine tra i giovani e poi hanno partecipato anche i calciatori baldini saeed marino di sabatino isacco mentre associazioni di categoria summit incontro dal sindaco chiesta l'esenzione dei tributi comunali e l'esenzione del suolo pubblico gratis fino al 2021 grazie francesco premiati 40 anni come predicatore l'intervista che il corriere adriatico questa mattina realizzato con padre raniero canta la messa originario come abbiamo detto di colli del tronto che sarà nominato cardinale dal papa nel prossimo concistoro e il quarto marchigiano dopo menichelli sebastiani e vegliò anci nel caos l'associazione nazionale economia italiana ci sono 14 schede di troppo questa è la notizia che trovate sul corriere di oggi dubbi sul voto per eleggere la mancinelli la sindaco di ancona il direttore bedeschi convoca per oggi la riunione urgente di verifica ma potrebbe slittare per l'assenza di baci nel nello scrutinio finale sono state contate 202 schede c'è il rischio del dell'invalidazione quindi che praticamente con questo colpo di scena potrebbe essere che insomma come vicepresidente una mossa forse per tentare di vabbè dovrebbe rifare credo tutto a questo punto intanto sulla sulla su colli del scuole al guzzi non non sarà più sindaco di colli al metauro qualcuno adesso avanza l'ipotesi che il comune potrebbe essere commissariato e dunque non passare al suo vice come era stato ipotizzato e detto qualche giorno fa non è escluso l'altolà del capogruppo della minoranza michela ubaldi dopo la nomina dei guzzi in regione ci sono molte criticità quando il sindaco è stato nominato assessore non si era ancora dimesso dunque sembrava tutto liscio invece potrebbe non essere certo che a colli al metauro l'attuale amministrazione potrà svolgere il suo lavoro fino alla primavera prossima quando le elezioni anticipate saranno inevitabili l'imminente scioglimento degli organi comunali all'arrivo del commissario che tragretterebbe il sesto comune della provincia per numero di abitanti fino all'appuntamento con le urne del 2021 non va affatto escluso quindi questo commissariamento almeno secondo quanto evidenziato da appunto michela ubaldi che ha posto il problema durante l'ultimo consiglio comunale e vedremo quali saranno gli sviluppi intanto a monbaroccio si piange la morte di un personaggio che ha dato tanto nella sua semplicità varis varis che secondo le parole del padre renato che ha celebrato l'esequio dice uno come varis non muore mai resterà come raggi di luce in giro e nella storia di monbaroccio bella questa questa cosa questa scena molto bella funerali solenni addirittura pensate funerali solenni è l'ultimo cittadino per riacuccia monbaroccio tra i fondatori della rete musei civici per mezzo secolo ha animato la proloco una persona che ha dato tanto e che appunto è stata ricordata nel nell'ultimo saluto e nel funerale che c'è stato appunto ieri monbaroccio ecco varis lo vedete in questa fotografia una persona che ripeto nella sua semplicità ha dato ha dato tanto e ha lasciato tanto l'occupazione del suolo pubblico sarà gratuita fino al 31 dicembre invece a senigallia la decisione della giunta per venire incontro a difficoltà degli operatori del commercio e mentre l'appello per la regione di aprire il covid hotel il sindaco dice l'esperienza passata ha funzionato bene è dedicato alle persone che hanno familiari positivi perché anche questo è un altro problema ci sono persone che quando scoprono di avere un familiare e qui abbiamo visto che in questo momento è la situazione peggiore che si sta verificando cioè i contatti stretti quindi familiari stretti parenti ma soprattutto gente che della famiglia che si trova ad essere si ritrova positiva e che magari per mancanza di spazi rischia di infettare anche anche gli altri e dunque cosa succede a senigallia c'è il covid hotel cioè momentaneamente queste persone che non possono stare a contatto con un familiare positivo hanno la possibilità di stare e di alloggiare in questo hotel ecco un'esperienza che dovrebbe esserci in ogni città anche da noi perché il problema è per tutti il problema è un problema che poi va risolto e sempre da senigallia però il resto del carlino covid e divieti così è meglio restare chiusi c'è chi sceglie di fermarsi fino alla fine di novembre e la confartigianato dice il comune deve tagliare tutti i tributi per un anno quindi si chiede sempre di più sempre a gran voce di togliere le tasse soprattutto per quelle categorie le più penalizzate ubriaca e senza mascherina invece è stata multata sempre a senigallia nella tarta mattinata di ieri una 56 n di origine marocchina mentre dipendente positivo a corinaldo emergenza in comune sottoposti a tampone tutti i lavoratori e la giunta da urbino invece associazione si costituisce contro uno stalker la onlus gens nova ammessa come parte civile nel processo contro l'ex di una signora di urbania pesantemente minacciata e allora la tormentava con messaggi carichi di insulti e minacce rivolte anche ai suoi figli e la chiamava e videochiamava addirittura ad ogni ora del giorno della notte il tutto perché non accettava che lei avesse chiuso il rapporto che aveva con lui e dopo una lunga serie di vessazioni subite più di una di una denuncia sporta una donna di urbani ha portato a processo per atti persecutori l'uomo con cui aveva avuto una relazione amorosa e pensate guardate tanto per capire un po come funziona ma sperando che non capiti mai nessuno i messaggi erano del tipo lasci lasci sempre il garage aperto poi ti becco quando meno te lo aspetti pensi veramente che non riesca a farti del male e anche a chi ti sta vicino ecco questi erano i messaggi e voi pensate ogni giorno riceverne tanti 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 pensate che inferno che si vive ecco comunque la buona notizia è che un'associazione si costituisce adesso contro questo stalker ora sotto sulla pagina di urbino del carlino la preoccupazione dell'arcivescovo monsignor giovanni tani su sul distanziamento e sulla che che porta anche i giovani soprattutto ad assentarsi dal catechismo monsignor giovanni tani ha scritto ai parroci invitando a non perdere questo contatto e a fare incontri anche a distanza siamo allo sport alma i tifosi sono entusiasti salvezza senza patemi l'appello di luca navacchia questa dirigenza merita sostegno e fiducia per cui ben vengano le sponsorizzazioni ora si guarda al seguito del torneo nell'ultimo match con il mantova i granata hanno giocato un attimo secondo tempo quindi anche se poi non c'è stato il risultato finale non c'è stata la vittoria però c'è stato un buon gioco di squadra intanto invece sul fronte vissino a pesaro tra aspettative per adesso deluse e il silenzio stampa la squadra ha iniziato il campionato tra molte ombre e qualche luce nonostante le ambizioni di alta classifica sbandierate nella scorsa estate la vice vuole dimenticare la scofitta al curi questo invece il titolo sul sul resto del carlino intanto il dg borozan torna in sede sta bene lazari che ieri è ricominciato ad allenarsi il perugia annuncia invece un positivo al covid sull'altra pagina la vl invece scampa lo spauracchio del virus pesaro tra le sei al momento fortunate della massima serie rigido protocollo 48 ore prima della partita ecco come funziona e al di là insomma di tutto per quanto riguarda lo sport diciamo quello professionistico insomma ci sono dei protocolli molto rigidi e il giornale questa mattina spiega come avvengono questi controlli mentre sul fronte motociclismo marco gaggi passa per il mondiale titola il carlino l'ho conquistato sul circuito portoghese dell'estorile grande soddisfazione per per lui credo che siamo arrivati alla fine sì siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa allora vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16 e 30 c'è l'appuntamento con il circolo bianchini achille campanile e lo stipendio dei parlamentari questo è il titolo della conversazione spettacolo recitazione chitarra dovrebbe essere così giusto non è un'intervista riccardo l'hai vista ha proprio uno spettacolo quindi ecco io ho visto la prima puntata quello con registrato dal mario negri strepitosa interessantissima si è parlato di covid ecco quindi questi appuntamenti con il circolo bianchini sono appuntamenti molto molto davvero interessanti allora oggi appuntamento alle 16 e 30 con achille campanile e lo stipendio dei parlamentari è tutto grazie per averci seguito l'informazione torna stasera alle 20 e 30 con il telegiornale arrivederci